L'incidente nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre intorno alle 17 sulla strada provinciale 41 che da feletto porta dagliè nel comune di Lusiglie. Un taxi elettrico Tesla, la dinamica ancora da chiarire da parte dei carabinieri di San Giorgio Canavese, giunti sul posto, è uscito di strada finendo nel prato del costeggio alla carreggiata. A bordo c'erano quattro persone, tra cui un bambino di due anni, portati in codice giallo, dopo le prime cure, dalla Croce Bianca del Canavese, giunta sul posto insieme alla Croce Rossa di Castellamonte, all'ospedale di Ivrea. È in festivo l'intervento dei vigili del fuoco di Ivrea, che visto le caratteristiche dell'auto, ha messo in sicurezza il mezzo. Secondo il taxista, l'incidente si è verificato a causa di un escavatore che gli avrebbe tagliato la strada, ma la dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie.